Manca poco al debutto in Serie D del Gela. Domenica la formazione bianca-azzurra sarà di scena a Pomigliano d'Arco in Campania. Dopo una settimana intensa, con tanti colpi di scena, finalmente si gioca. Sono stati giorni di fuoco, una corsa contro il tempo per salvare un patrimonio. A livello societario adesso le cose sembrano essersi sistemate. Ricordiamo che il nuovo pacchetto societario del club è così distribuito. Il 60% è della famiglia Tuccio, il rimanente 40% di due imprenditori gelesi, i cui nomi sono top secret, che operano al nord Italia. Nuova linfa che porterà solo benefici. A livello tecnico invece tante cose sono cambiate. Non fanno più parte della Rosa, i vari Strumbo, Mincica, Biondo, Biancola, Luis e Lia, i quali hanno preferito accasarsi altrove. In bilico la situazione del centrocampista Emanuele Trofo. Il giocatore è rientrato a Lecce e non ha ancora fatto sapere le sue intenzioni. E a livello tecnico manca un allenatore. E di ieri la notizia dell'esonero di Toto Brucculeri. L'allenamento, ieri pomeriggio, è stato diretto da Alessio Catania, tecnico delle giovanili. Si attende il nome del nuovo trainer. Si parla di Rufini e di Infantino. Vediamo cosa accadrà nelle prossime ore. Intanto Brucculeri, attraverso una nota, ha fatto sapere come sono andate realmente le cose. Dopo l'annuncio del mio esonero, scrive, ne ho letto e sentito di tutti i colori. Al fine di non fomentare e alimentare speculazioni, volevo chiarire il tutto. In un momento in cui il futuro del Gela era di poco incerto, ho concordato, di comune accordo con la società, l'esonero rescissione prima dell'inizio del campionato, precisando che questa formula mi permette di poter allenare in questa stagione in altre squadre. Faccio presente che il tutto è stato fatto e concordato in piena sintonia con la società in data 25 agosto 2016. Quello che è stato ufficializzato è stato concordato con la società giorni addietro, solo ed esclusivamente perché le attenzioni di tutti, mie comprese, erano rivolte alla conclusione positiva della vicenda. Da buon padre di famiglia, rimarca Brucculeri, ho fatto la scelta che in quel momento ho ritenuto più giusta. A me resta il meraviglioso ricordo di un'avventura che resterà per sempre tatuata nel mio cuore e che nessuno riuscirà a scalfire, neanche un po'. Mi vanterò di avere creato un legame profondo con la città, di aver vinto due campionati in una piazza meravigliosa. Un ringraziamento va al mio presidente Angelo Tuccio, persona unica, al mio amico fraterno Giovanni Martello, agli amici di sempre Vincenzo Cannizzaro e Carmelo Catalano, a Umberto Cuvato, Marco Tuccio, Giacomo Cascino, mio compagno di Mille Sfoghi, Orazio Fulco, Flavio Centamore, ai vicepresidenti Lucio Antona e Gidio Alma, a Massimo Parisi e a tutta la mia squadra per avermi supportato e sopportato. Un ringraziamento va a tutti i giornalisti, ai tifosi dico la misura di quanto vi amo. Arrivederci, Brucculeri, Totò per gli amici e io di questa città ne sono fraterno amico.